Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione dei Telecosta Smeralda, l'informazione che passa attraverso il turismo. Infatti c'è una posta ben precisa legata al turismo nell'ultima manovra di bilancio approvata dal Consiglio regionale, l'ultima della fine della legislatura. Una manovra, una variazione di bilancio che dà fiato e respiro alla Sardegna. Un miliardo di euro in tutto per guardare con un po' più di serenità al futuro del sistema produttivo dell'isola. L'ultimo provimento finanziario della legislatura approvato dal Consiglio regionale ha previsto stanziamenti importanti per gli enti locali, i trasporti, la sanità, le politiche sociali, l'istruzione, l'agricoltura e il turismo, assi portanti dell'economia isolana. Una prima significativa iniezione di fiducia arriva per il sistema delle autonomie locali e poi la scuola e l'istruzione con le borse di studio per i giovani. Il mondo agricolo è quello delle campagne perché riescano a programmare la loro stagione, lo sport e tutto quel mondo direttantistico che quotidianamente svolge una funzione sociale così che possa dotarsi di strutture non solo a norma ma anche adeguate ai tempi moderni. È una variazione importante, credo la più importante degli ultimi decenni per quantità, quasi un miliardo di euro che va ad investire con forza sul sistema delle autonomie locali. Abbiamo incrementato del 20% circa il fondo unico e diamo 217 milioni per infrastrutture e interventi a livello locale che vanno dalla viabilità rurale alla rigenerazione urbana. Credo che mai nessuno abbia scommesso così tanto sui nostri comuni, che significa dare ai cittadini risposte immediate e alimentare anche una serie di opere che lasciano lavoro e valore sul territorio. Abbiamo scommesso per dare agli studenti universitari piena copertura delle borse di studio e un aiuto importante anche ai più deboli, ai più fragili, con un incremento del race, del reddito di inclusione sociale per tutte quelle persone che non riescono a farcela in questo momento da sole. Siamo molto convinti del fatto che questi interventi creeranno ulteriori opportunità anche per loro in quanto aumenterà la domanda di lavoro e la possibilità di generare un reddito. E poi la cultura, il turismo e il paesaggio. Il nostro ricco e prezioso patrimonio ambientale ad iniziare dall'isola della Sinara con un piano straordinario finanziato con 30 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio edilizio. Interventi che daranno il via anche ad un percorso di bonifica, con stanziamenti per 5 milioni di euro per l'anno in corso e ulteriori 25 per il prossimo. E lo abbiamo sentito, spazio anche ai trasporti. Si cerca di migliorare la mobilità verso l'esterno ma anche verso l'interno. Sentiamo. Tra le norme che si trovano all'interno della legge finanziaria provata in extremis dal Consiglio regionale nella notte del 30 novembre, venne una destinata a cambiare, si spera, le sorti dei trasporti aerei e del turismo in Sardegna e quella che dovrebbe dar corso al modello sardo dei trasporti aerei con sostegno ai vettori che aprono nuove rotte internazionali. Fino a 15, spera l'assessore regionale Antonio Moro. Poi partirà la sperimentazione del rimborso del biglietto direttamente al passeggero. Una novità che, se recepita correttamente, potrebbe portare nuovi flussi turistici, un nuovo benessere anche in Sardegna. Ci sono oltre 40 milioni di stanziamenti sui trasporti, ha detto il Presidente, che vanno ad alimentare il nuovo modello di continuità territoriale implementato con gli aiuti diretti dei passeggeri e i vettori e a integrare anche in maniera significativa il trasporto pubblico locale per adeguarci al rinnovo contrattuale di tutti gli operatori del settore. Abbiamo scelto di scommettere sull'allungamento della stagione attraverso una pluralità di iniziative di rilevanza internazionale che possano fungere da grandi attrattori verso la Sardegna. Sappiamo che questo metodo dà un moltiplicatore importante al sistema economico, mette in moto aeroporti, porti, strutture ricettive e lascia sul territorio quella ricchezza indispensabile ad alimentare un circuito economico positivo. Un modello che dovrebbe cambiare i parametri ricattatori della continuità territoriale, creare rapporti con nuovi stati, nuove relazioni tra imprenditori e motivare gli operatori del settore turistico a fare meglio e di più, soprattutto nei mesi spalla, che ora vuoi per la carenza di voli, vuoi per la mancanza di clienti, sono mesi di letargo, dove tutto chiude in attesa della nuova stagione. Un modello che sembra aver trovato anche il favore dell'Europa, come ha spiegato l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro, e che si basa su tre assi portanti. Il modello sardo della continuità territoriale è fatto degli oneri di servizio pubblico, dagli aiuti di reti ai vettori e dagli aiuti di reti ai passeggeri. Abbiamo infatti ricevuto una disponibilità non solo a rivedere l'architettura complessiva della continuità territoriale, ma anche ad andare verso oneri di servizio pubblico più aperti e flessibili, così da soddisfare le rinnovate esigenze della Sardegna ed eliminare le criticità che riguardano un numero insufficiente di voli, unitamente a una tarifa non residenti, lasciata nella disponibilità e nelle politiche di prezzo e di profitto delle compagnie che ha portato a tariffe fuori in mercato. Così appunto l'assessore regionale dei trasporti Antonio Moro. E a proposito di turismo, anche la Gallura si interroga. Olbia guarda il turismo responsabile attraverso un meeting in programma fino a domani nel Museo archeologico della città gallurese. Il turismo è un settore strategico per l'economia dell'isola che genera notevoli benefici economici, sociali e culturali. Per questo motivo la Regione Sardegna e una scuola sarda con la collaborazione del Comune di Olbia organizzano la diciassettesima edizione del Meeting Olbia che si terrà fino al 3 dicembre presso il Museo archeologico di Olbia. Il tema di quest'anno è il turismo fra crescita e sostenibilità, un tema di grande attualità e rilevanza per l'isola. La Sardegna infatti è una destinazione turistica sempre più ambita ma anche una terra fragile che necessita di essere tutelata. Ci si propone come inventivo ogni anno quello di valutare l'andamento della salione turistica e fare delle considerazioni. Non abbiamo dati freschissimi però le tendenze ci sembrano sufficientemente agili da riscontrare e verificare un po' anche i diversi segmenti economici e come si muovono e anche aiutare poi gli operatori perché stiamo di fatto alle porte della nuova stagione a compiere le valutazioni e le considerazioni utili per le loro e per le proprie attività. Noi quest'anno portiamo anche un approfondimento specifico con interventi più diversi quindi non solo da parte degli operatori strettamente del settore turistico ma gli operatori che si muovono anche nel sociale e anche scenari di quelli che sono di quella che è la branca di attività o il settore di attività molto piano del turismo e riflettiamo sulle tematiche della crescita quindi del turismo e quindi della crescita dei sistemi ad essere legati con la sostenibilità degli stessi. Il problema della sostenibilità viene affrontato da operatori anche pubblici che si muovono nel contesto dei litorali e quindi del barneare ma anche ad operatori, sociali, amministratori pubblici che invece devono affrontare le tematiche della sostenibilità e delle presenze del turismo in uno scenario più rarifatto e più marginale che quello delle zone interne. Il meeting si articolerà in tre giornate dedicate a convegni, seminari e attività ambientaliste. È un'importante occasione di confronto e riflessione per tutti gli operatori del settore turistico e per le istituzioni che si occupano di turismo. L'obiettivo è quello di promuovere un turismo responsabile e sostenibile che possa garantire la crescita economica e sociale della Sardegna ma senza compromettere l'ambiente con un focus relativo ai numeri delle presenze della stagione appena passata. Vedendo i numeri degli arrivi dei porti è stata una stagione che ci ha portato ad una certa crescita non rilevante ma una crescita. La misuriamo positiva rispetto al 2022 la misuriamo positiva rispetto a quello che è stato l'anno leader nel 2019. Si può sicuramente dire la stessa cosa del sistema aereo che vedono in crescita tutti gli aeroporti se andiamo poi però ad articolare questa crescita e la valutiamo sotto il profilo dei passeggeri nazionali possiamo vedere che dal 2009 c'è stata una crescita costante dei passeggeri internazionali che ci ha accompagnato fino a settembre l'ultimo dato lo abbiamo a quel momento a settembre del 2023 mentre invece nel segmento estero noi non abbiamo ancora recuperato nonostante una crescita importante che abbiamo avuto nel 2022 non abbiamo ancora recuperato i numeri del 2019. È un ritardo che è presente in tutti e tre gli aeroporti della Sardegna. Intanto si lavora sulle varie offerte turistiche possibili e una è quella dei cammini inclusivi. La prima prova è stata fatta con successo con le persone non vedenti. C'è una dimensione nuova da scoprire è un modo diverso di ammirare i paesaggi non solo con gli occhi ma con tutti i sensi e allora ecco nel bellissimo territorio del Sarrabus un progetto unico immersivo dedicato a un gruppo di persone cieche ipovedenti e vedenti ciascuno con la propria identità e abilità e il suo modo di percepire la bellezza della natura. È partito da Castiadas il cammino inclusivo format collaudato in molti sentieri italiani ideato da Dario Sorgato designer ipovedente. Sei giornate di cammino come primo esperimento tra percorsi che si affacciano su scogliere spiagge mari turchese panorami fascinosi e ricchi di verde. Giorno dopo giorno si fa tappo a San Priamo Porto Pirastu Costa Rei Calapira e Villa Simeus. Camminare con le persone non vedenti per i normodotati in occasione per soffermarsi su dettagli che a uno sguardo veloce sfuggono tradurre in parole la bellezza di un tramonto o un paesaggio cogliere le voci della natura frusci, profumi del mare o delle erbe spontanee sentire la brezza il calore del sole o la frescura il contatto dei piedi sulla terra o delle mani su una roccia spiega l'ansa a Dario Sorgato di attore del progetto Il Camino è uno scambio e un arricchimento per tutti Sono numerosi gruppi del Cammino Condiviso che una disabilità desidera rivivere emozioni ed esperienze in maniera più serena aggiunge Sorgato i normodotati ci raccontano come hanno superato i limiti dati dalla scarsa conoscenza e la paura di pensare al mondo della disabilità come un mondo a parte e vogliono riprovare l'intensità della condivisione Indipendentemente dalle capacità visive stare nella natura in connessione con se stessi diventa occasione per cogliere la propria percezione per ritrovare il proprio intimo senso del trascendente in sito in ognuno di noi E' sempre tempo di parlare di violenza sulle donne ecco un videoclip niente sbagliato del gruppo Hot Hell 77 nato un anno fa che stigmatizza appunto il femminicidio un giorno un giorno non basta anche perché quel giorno maledetto ciclicamente torna ritorna e non dalle pagine di cronaca tele e radio giornali siti e social già i media nuovi di comunicazione la grande abbuffata insomma poi la retorica tanta troppa non in questa clip niente di sbagliato del gruppo Hot Hell 77 Il brano era nato come una valvola di sfogo comunque qualcosa che possa aiutare delle donne che vivono situazioni di soppruso a casa per strada al lavoro a far sentire la propria voce ad avere uno stimolo di rinascita di rivincita rinascita e rivincita sostantivi femminili che durante l'ascolto delle parole in rime riverberano risuonano entrano insomma mai scontate queste parole come la musica come il tempo inteso come BPM battiti ma in questo caso la genesi del brano è senza tempo novembre 2022 l'anno scorso in questo periodo pubblicavamo un brano niente di sbagliato un brano di denuncia contro la violenza sulle donne ad oggi evidente niente è cambiato anche l'ultima storia di Giulio lo dimostra quindi questo è un appello affinché le istituzioni la gente comune gli artisti continuino a non far silenzio su questa tematica ma anzi a portarla alla luce a far sì che le cose cambiano già il tempo i messaggi e la storia che si ripete maledettamente inesonabilmente i cui gli averbi suonano suoni e parole in questo caso in questo caso solo in questo caso diventano macigni importanti e mai retorici una traccia la musica come manifesto è al tema della traccia e a quello che viviamo ogni giorno che per noi è molto molto importante tradurlo in musica è stato molto importante farlo un anno fa col pezzo e penso che saremo disposti anche a riproporlo nuovamente se servirà il discorso è che purtroppo oggi come oggi le cose non sono cambiate è stato più che favorevole all'inizio dell'idea del progetto parlandone con appunto stridordare il nostro cantante quando mi disse sentendo la base nella produzione perché non lavoriamo su un argomento così toccante così importante così fondamentale tutto questo è stato realizzato in compagnia giustamente in amicizia però soprattutto sempre nel rispetto del messaggio finale che è quello di portarlo a più persone avversibili e di farlo capire a tutti quanti che non bisogna più chiudere gli occhi su un fenomeno così agghiacciante e crudele purtroppo che insanguina tutte le pagine dei notiziari ogni giorno tutto questo accompagnato da un videoclip che è stato lavorato meticolosamente veramente in maniera perfetta se si può dire da nostro ragazzo nonché amico cristiano il singolo è pubblicato dall'etichetta discografica il suono del successo music production è distribuito dall'etichetta artist first su tutti i digital store e in esclusiva su itunes e spotify un collettivo i ragazzi e questa clip che vale più di mille infinite parole perché arriva al centro centro a cui non basta dedicare un giorno un editoriale a volte è questo il caso basta poco davvero perché non c'è mai nulla di sbagliato anzi niente di sbagliato ed è davvero tutto per il momento io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti